Non ce l'ha fatta la donna investita 15 giorni fa in pieno centro a Nocera Inferiore. La 54enne era apparsa subito grave ed era ricoverata in rianimazione all'Umberto I. Alle 7 il suo cuore ha cessato di battere dopo due settimane di agonia. L'episodio accade lo scorso 31 agosto nella centralissima via Barbarulo alle 6 circa del mattino. La donna, residente in zona, aveva varcato prima la porta di ingresso e poi il cancello per uscire in strada. Conzi aveva dei sacchetti di rifiuti che doveva depositare a solo pochi metri di distanza lungo il marciapiede. Per camminare si aiutava con una stampella. Stava gettando la spazzatura quando la tragedia è avvenuta. Una Ford di colore bianco la colpì in pieno e il corpo, prima di rovinare a terra, finì sul parabrezza del sub. Trasportata all'Umberto I, la donna venne sottoposta ad un intervento chirurgico al reparto di neurochirurgia e poi rianimazione. Anche il conducente dell'auto fu portato in ospedale per dei controlli e denunciato l'automobile sequestrata. Ed ora il conducente dell'auto potrebbe rispondere anche di omicidio colposo, anche se saranno le indagini a stabilire colpe e responsabilità. Da tempo i cittadini avevano segnalato che via Barbarulo era diventata una zona pericolosa a caso dell'eccesso di velocità frequente tra gli automobilisti. L'amministrazione comunale è a lavoro da tempo per ridurre non solo il flusso veicolare ma anche la velocità di quanti, vedendo le strade semideserte di notte schiacciano il piede sull'acceleratore.